Mister, quest'Ascoli ha mostrato più convinzione e più voglia di vincerla questa partita, nonostante comunque di fronte aveva una Ternana che ha giocato un buon calcio. Non è che ha dimostrato più convinzione, poi a partita tante volte fanno anche gli episodi, l'Ascoli ha fatto la partita che doveva fare ma non credo che abbia dimostrato più niente di più della Ternana, anche noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo avuto dei corsi importanti, poi dopo non siamo riusciti a concretizzare, però sapendo che abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Come mai il cambio di Avenatti con Furlan nel primo tempo? Perché vedevo che c'erano delle caratteristiche che potevano fare più male, perché soffriamo un pochino a destra e non riuscivamo a usare Avenatti come in altre partite, quindi ho cercato di mettere più velocità e più ripartenze in un momento dove i loro difensori alti potevano soffrire. Avete creato qualche palla a gol, soprattutto nel secondo tempo, è mancata concretezza? Con concretezza, non abbiamo segnato delle situazioni molto interessanti, però non è che lo fanno apposta, quando uno sbaglia, l'errore ci sta, dobbiamo essere ancora più concreti perché la partita che dovevamo fare era questa, sapevamo cosa trovavamo qua ad Ascoli, l'Ascoli ha fatto la partita che tutti ci aspettavamo, e negli episodi dovevamo essere un pochino più cinici. Ascoli e Ternana se la giocheranno fino alla fine per la salvezza, questo era uno scontro decisivo per la parte bassa della classifica? In questo momento la classifica dice questo, quindi finché una delle due non farà qualcosa di meglio ci sarà da soffrire, poi dopo è ancora lunga per tutti quanti, e penso che in ogni caso sia Ternana che l'Ascoli abbiano degli organici per poter fare anche qualcosa in più, però è logico che bisogna sempre farlo sul campo. Perfetto.